Marco! E' lì Marco, anche ti vuole salutare! E' lì, io la faccio mentre parla con te. Vediamo, vediamo. Se mai sia cosa? Dilo affatto, sennò non ce la andiamo. Facciamo una foto insieme. Se vuoi, vuoi la foto con lui. Ma per me non è anche una foto insieme. Va bene. Vedi nel mente che trovi la foto insieme. Vieni, faccio il video. Andiamo verso di te, Roby! Andiamo verso di te, Roby! Andiamo verso di te, Roby! Thank you. Oh, baby, we can do this. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ok? Ok. Ok. Ok.